Bravo Robac, quindi ruba palla e si cerca di lanciarsi da solo in profondità, proprio Scherz lo chiude con la collaborazione di due compagni che si scontrano peraltro, quindi ci favoriscono ancora Robac che tiene palla, vediamo se riesce a prendersi un fallo o a far respirare la squadra da quel punto e invece dribbla addirittura, se ne va, salta tre uomini, Robac, palla centrale per la deviazione e l'uscita.